Sabato scorso, sabato 10 novembre, la carovana di Arancia Live con Matteo e Demis ha fatto tappa a moglie di Maiolati Spontini per l'inaugurazione della Grotta di Sale, un nuovo centro che permette di sottoporsi ad una delle pratiche detossinanti del momento, la aloterapia. La aloterapia, dal greco halos, che significa sale, è una terapia basata sui benefici derivanti dal cloruro di sodio micronizzato, cioè di sale medicale purissimo. Questo rimedio naturale conosciuto ormai da secoli per i suoi benefici e effetti sul sistema respiratorio è molto diffuso nei paesi dell'est dove è riconosciuto ufficialmente come terapia medica. Nelle grotte o stanze si può respirare sal gemma che proviene dalle miniere della Polonia. Il sale aumenta anche l'attività dei canali ionici delle cellule della pelle. Per questo stimola la microcircolazione e di conseguenza l'ossigenazione, la depurazione e il nutrimento dell'epidermide svolgendo un'ottima azione anti-invecchiamento. L'aloterapia è indicata per tutti, bambini, adulti, terza età e anche in gravidanza, in quanto è una vera e propria cura naturale senza utilizzo di farmaci. È un trattamento di prevenzione che si svolge ogni giorno o a giorni alterni. Un giorno di aloterapia equivale a tre giorni al mare.